Siamo stati nominati Scuola Polo regionale per le avanguardie educative, intendo lavorare prevalentemente sulla diminuzione di raccordo territoriale, perché molte delle scuole che sono nel mio territorio e che mi sono vicine stanno sperimentando l'innovazione, ma non c'è un sistema che ci raccordi tutti e soprattutto non c'è confronto sulle aree nelle quali le scuole stanno lavorando. Quindi forse il primo passaggio è quello di riconoscere quello che c'è per poi potenziarlo e portarlo al sistema attraverso un'azione congiunta per l'innovazione e che guardi al futuro, a quello che si deve ancora fare. Evidentemente, probabilmente anche il problema delle scuole secondarie è quello di un po' di solitudine all'interno del loro lavoro. Ognuno lavora nella propria scuola, segue la propria traiettoria, segue la propria strada e spesso non c'è un'idea di comunità educante che cresce tutta insieme in una dimensione di innovazione. Quindi per questo motivo io penso di lavorare in primo luogo con i dirigenti scolastici che sono i motori dell'innovazione e che devono aiutarmi e aiutare i docenti a formare questa comunità che intanto apprenda, perché ognuno può apprendere dall'altro e che poi guardi in avanti per portare sul territorio delle azioni congiunte e nella direzione delle idee che Avanguardia Educativa sta portando avanti con il suo progetto. Grazie a tutti.